scopriamo l'arte del ritratto nell'antica etruria e il suo significato culturale esplorando in particolare il sarcopago etrusco di letizia saienti datato al secondo secolo avanti cristo conservato al museo archeologico nazionale di firenze quest'opera offre una prospettiva unica sulla pratica funeraria etrusca e sulle tecniche ritradistiche di quest'antica civiltà a differenza dell'antica grecia dove la rappresentazione umana era concepita come una statua intera nell'arte etrusca si manifestava una diversa concezione gli etruschi ritenevano che la personalità e l'essenza di un individuo potessero essere efficacemente catturate attraverso la raffigurazione della testa questa pratica è evidente nelle urne cinerarie nei sarcofagi dove le teste sono spesso sproporzionatamente più grandi rispetto ai corpi suggerendo un'enfasi sulla individualità e il carattere della persona rappresentata il sarcofago di letizia saienti è un esempio emblematico di queste pratiche artistiche questo sarcofago mostra figure con teste di grandi dimensioni rispetto ai corpi una caratteristica tipica dell'arte funeraria etrusca tuttavia al contrario di altre opere contemporanee che tendono a idealizzare i tratti il sarcofago di letizia saienti offre una rappresentazione più dettagliata e personalizzata sebbene ancora entro i limiti di un certo idealismo i sarcofagi etruschi come quello di letizia saienti riflettono un'arte che pur essendo influenzata dalla ritratistica greca si distingue per una minore enfasi sui tratti fisiognomici realistici inizialmente i ritratti etruschi sono prevalentemente tipologici evolvendosi solo gradualmente verso forme che includevano indizi di tratti fisiognomici più distintivi a partire dalla fine del quarto secolo avanti cristo tuttavia la caratterizzazione dei sarcofagi come quello di letizia saienti rimane relativamente generica suggerendo che l'interesse per le reali fattezze dei defunti era spesso secondario il sarcofago non solo funge da ultimo riposo per letizia saienti ma serve anche come un potente strumento culturale che ci informa sui valori le credenze e le pratiche artistiche degli etruschi queste opere ci permettono di comprendere meglio come gli etruschi vedevano la morte e la memoria e come queste percezioni influenzassero la loro arte funeraria se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando